Favore in chiusura per Roger Opie, Riccardo Pezzatini in sediolo, numero 2 dello schienamento. Discosta Raffi Caleo, mentre partecipano alla partenza praticamente soltanto Roger Opie, Rodda Quadda e all'esterno Roger Lag. Il partito tranquillamente invece Reindog-Laumar, più a largo Ribesnero, vediamo le fasi iniziali con l'attacco di Roger Lag. Andrea Farolfi forza i tempi, passa in 200 metri e guida al completamento della piegata. In seconda posizione Rodda Quadda, che lascia più indietro Roger Opie, se ne vanno i primi 400, con in vantaggio Roger Lag, un paio di lunghezze avanti a Rodda Quadda. Poi in terza posizione Roger Opie, all'esterno invece Reindog-Laumar che progredisce, si trascina Riboi e quindi rende trio, mentre per le vie brevi va anche Ribesnero. Intanto c'è l'anticipo da parte di Roger Opie su Reindog-Laumar, dopo 600 in 44 e 7, cavalli all'attacco della penultima piegata. Si avvicinano al mezzo miglio, che il leader completa in 1-1 e 1. All'esterno insiste nella sua risalita Roger Opie, subera Rodda Quadda, si trascina Reindog-Laumar. Più indietro la corda c'è Ribesnero, intanto il chilometro se ne va in 1-15-9, secca accelerazione ora, da parte dei due di testa, con sempre in schiena a Roger Opie c'è Reindog-Laumar. Intanto arriva il paletto dei 400 metri conclusivi, con Roger Opie che può accodarsi in seconda posizione, e Reindog-Laumar che cerca di ingambarsi ancora all'esterno dopo il calo di Rodda Quadda. Completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo, in vantaggio è Roger Opie, inseguito da Roger Opie che ci prova. Roger Opie va su Roger Opie, lo trova in lieve crisi, si difende però ancora Roger Opie, ultime battute, Roger Opie controlla fin sul palo e vince, mentre per il terzo forse Reindog-Laumar riesce a mantenere la terza posizione su Riboy, arrivo stretto per la terza moneta. Due minuti secchi, 29-7 per chiudere la vittoria per Roger Opie. Andrea Farolti, passato favorito in chiusura, 3,27 la quota, di misura su 0 picche, buon secondo. Mentre per il terzo, appunto, Reindog-Laumar dovrebbe essersi salvato, ma è molto stretto l'arrivo, andiamo a rivederlo. Arrivo strettissimo, strettissimo. Foto davvero difficile da decifrare, noi siamo ancora per Reindog-Laumar, ma è davvero molto stretto. Grazie a tutti.